L'Abruzzo dal 7 gennaio tornerà a zona gialla. La conferma oltre che dei dati arriva anche dal ministro della salute Roberto Speranza che ha rassicurato il presidente della giunta regionale in un colloquio telefonico. I dati diffusi nell'ultimo report della cabina di regia certificano che l'Abruzzo è oggi la regione con l'indice di trasmissione del contagio RT più basso d'Italia pari a 0,65 con una media nazionale di 0,93. Una discesa iniziata dal 18 novembre data in cui sono iniziate le misure restrittive decise prima dal governo regionale e poi da quello nazionale. In Abruzzo le province che hanno subito il maggiore impatto nella seconda ondata e che hanno già effettuato lo screening di massa registrano i valori più bassi mentre sono Pescara e Chieti ad alzare la media regionale. Una ragione in più dice il presidente Marsiglio per rinnovare l'appello a partecipare allo screening che dal 2 gennaio prossimo partirà in provincia di Pescara e subito dopo anche a Chieti. Rischio basso e zona gialla dopo la Befana però non devono far abbassare la guardia rispetto ad un inverno che si annuncia ancora lungo e difficile sebbene l'inizio delle vaccinazioni facciano intravedere la luce in fondo al tunnel. Il tempo è galantuomo commenta il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio e le misure messe in campo hanno colto l'obiettivo e continueranno a farlo in maniera duratura. Il presidente Marsiglio infine esprime il proprio ringraziamento ai cittadini abruzzesi che con i loro comportamenti disciplinati e responsabili hanno consentito di raggiungere questi risultati.